Sette episodi! Sette episodi! Sette è il mio numero fortunato! Se non vinco oggi! Se non vinco oggi che è il settimo epis... C'è il casino! Siamo tutti benvenuti in questo settimo episodio degli Hunger Games e come ogni mese per sette mesi di file ed è una cosa incredibile siamo qua con questi baldigiovani e le loro strane immagini e sì c'è anche Snoop Dogg Dal quarto episodio abbiamo sempre un ospite speciale e oggi abbiamo Snoop Dogg Morirà prima perché si fumerà un qualcosa di strano però partecipa E comunque abbiamo di nuovo Pac-Man, Slipper Rosso Nero e basta Vi ho cambiato un po' le immagini ma questo lo noterete dopo ad esempio il Padresauro con Putin perché mi sembra più che giusto Ed incominciamo! Per la settima volta! Si parte! Zaru scatta Mario The Best Collos In che senso scatta Mario The Best? Cioè ci siano già fermati alla prima? In che senso? Gli corre veloce sopra il collo? X-Men 77 fugge dalla Coruco? Come sempre, come sempre Alex il popo fugge con un accendino e un po' di corda Paolo pugna la Padresauro mentre la sua schiena è acceso Mentre la sua schiena è acceso Cioè Padresauro è stato... Cioè non è mai morto e nessuno così veloce ma è morto Verremo bombardati Pan scaglia Gianluca Borsato Tessas con una mazza Ma sono già morti in tre? Nash Genova trova una borsa piena di esplosivo Almeno lui non si fa esplodere Drake strappa un paio di size ovviamente Che non gli ha ancora fatto quel dannato personaggio Perché non ho ancora capito cosa dannati sono Coconut rompe Last Game 99 Nasos per un cesto di pane Cioè immagino per gli ortaggi cosa gli fai Drake è punse da spinne mentre le bacche di prelievo Zaru tende a Snoop Dogg ferites Pac-Man non è in grado di gestire le circostanze e si suicida Siamo seri? No ma il video deve durare abbastanza Rodolfo Fusco ovviamente camouflage nei cespugli Stessa cosa per Matteo Corsini X-Men 77 riceve acqua pulita da uno sponsor sconosciuta Alexi Povua sloga una caviglia durante l'esecuzione lontano da Coconut Sì L'arropa di pesci Nash Genova fa una lancia di legno Attenzione Odiato dagli sponsor se ne frega li fa lui Coconut pugna la sleeper rosso nero Poi lo spinge abbastanza vicino per l'uragano A succhiare lui aspetta Un uragano mostruoso semina il terrore sulla scena È nuovissima sta cosa Coconut pugna la sleeper rosso nero Poi lo spinge abbastanza vicino per l'uragano A succhiare lui L'arropa di sopravvive Matteo Corsini spinge Davide in un masso in entrata Mica è calcio che è l'entrata In scivolata Drake cerca di salvare Icaro 110 Di essere risucchiato dall'uragano Solo per essere risucchiato pure Questo vuol dire che è morto anche Drake insieme a Icaro Lo sto godendo Non per te Icaro anche se hai vinto l'ultima Ma per Drake Ci siamo tolti praticamente un sacco di vincitori Sassababicu cerca di salvare il compa ragazzo di strada Di essere risucchiato all'uragano Solo per essere risucchiato pure Così stanno morendo Altro che lanciare le banconote In due giorni sono morti tutti Zaru viene risucchiato dall'uragano Marco è incapace da detriti e muore in volo Sono morti in dodici il primo giorno In dodici il primo giorno La metà esatta Mario The Best, Padre Zauro, Gianluca Borsato, Pacman, Slipper Rosso Nero, Davide, Drake, Kikaro 110, Sassababicu, Coppa Ragazzo di Strada, Zaru e Marco Facevate prima non partecipare XM77 affetta gravemente la Sgamer 99 con una spada Ops Ops Alexi Pomo sconfigge Snoop Dogg in una lotta ma risparmia la vita E chissà cosa gli ha dato in cambio Paolo è in grado di accendere un fuoco e dormire senza calore Ovviamente come al solito L'arropa da forse Matteo Corsini per uccidere Coconut o The Dragon 666 e gli decide di uccidere Coconut Ok Rodolfo Fusco spaventa Paolo fuori Snoop Dogg cerca di legna da ardere Chissà cosa vuole accendere Ah ma ha ucciso Last Gamer 99 ed è morto Coconut Si è rimasti in 10 Matteo Corsini difende Snoop Dogg, Nash Genova e Paolo lontano dal suo fuoco Invenzione Rodolfo Fusco tende all'arropa de ferites Pan tenta di accendere un fuoco ma non è riuscita XM77 implora The Dragon 666 di ucciderlo Che fai cretino? Si rifiuta mantenendo XM77 vivo Bravo Snoop Dogg vede Fumo che si alza in lontananza ma decide di non indagare Sarà la prima volta che succede una cosa del genere Matteo Corsini si ferisce Nash Genova attacca Paolo ma lui riesce a fuggire Pan si ferisce Rodolfo Fusco pesci The Dragon 666 cerca di dormire tutta l'intera giornata Alexi Powa pesci Alexi Powa cada a terra ma i calci XM77 abbastanza duro per poi spingerlo nel fuoco Non ho capito Sono morto? Sono morto Stessa cosa The Dragon 666 con Matteo Corsini Ma allora cosa avete? Non è mai successo nulla? L'avete aggiornato? Non posso morire per un aggiornamento Non è valido Sono cretino Un incendio si diffonde in tutta l'arena L'incendio raggiunge Laro Pad uccidendolo Rodolfo Fusco sopravvive Paolo cade a terra ma calcia Snoop Dogg abbastanza duro per poi spingerlo nel fuoco C'è Snoop Dogg che muore bruciato è qualcosa di... C'è Nash Genova sopravvive Una palla di fuoco colpisce Pan uccidendolo Ma che morte poverino Morto XM77 Matteo Corsini Laro Pad Snoop Dogg e Padella Padella Sono rimasti in cinque Nash Genova tende a Alex il povo a ferites Paolo è in grado di accendere di nuovo un fuoco e dormire senza calores La cornucopia ha fornito cibo, forniture, armi, tribus e ok Rodolfo Fusco mette fuori un esplosivo uccidendo The Dragon 666 in Nash Genova Sono rimasti in tre Rodolfo Fusco insegue Paolo Alex il povo interroga la sua sanità mentale Morto dei Dragon 666 in Nash Genova Paolo canticchia tranquillamente Rodolfo Fusco tenta di accendere un fuoco ma non è riuscita Non si ammazzano Non è morto nessuno Alex il povo a Rodolfo Fusco e Paolo allegramente cantare canzoni insieme Basta Cioè io me Basta me ne vado Non è possibile Sono rimasti in tre Non sono neanche della stessa cosa Non si conoscono Catticchia tranquillamente Non sa ma Va bene basta ciao In questo episodio succede di tutto Non muoiono Non è morto nessuno Alex il povo a Paolo e Rodolfo Fusco Allegramente cantare canzoni insieme di nuovo Alex il povo cerca di infilzare pesci con un tridente Rodolfo Fusco attacca Paolo Ma lui riesce a fuggire Ma non riescono Non è morto nessuno Tre giorni di filo in tre Sì vabbè ma non è possibile Alex il povo a Paolo e Rodolfo Fusco sono in turni Ma veramente Veramente Rodolfo Fusco spara un dardo velenoso Colpo in Alex il povo a collo Succidendolo lentamente Così Paolo muore cercando di sfuggire dall'arena Alex il povo è morto e Paolo è morto Vince Rodolfo Fusco dal distretto 6 Allora quest'episodio è stato il migliore Per finora il finale più bello A parte quelli che c'era uno che uccideva tutti e le cose Ma il finale più lungo e più bello di tutti gli anghi Cioè è stato bellissimo E sono stupidi veramente Dopo di questa Se volete partecipare come al solito Iscrivete sempre nei commenti Tutti i commenti di tutti i video che ho fatto Praticamente però guardate i video Non scrivete un commento al minuto Come sleeper rosso nero ma va bene E ci vediamo fra un mese Che devo dire Pesci Grazie 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 Grazie